Noi come Movimento della Lega Nord abbiamo sempre ripetuto che bisogna eliminare il cumulo delle pensioni perché ci sono pensionati che prendono più pensioni e quindi le cumulano. E dopo bisogna arrivare a un tetto massimo, cioè bisogna arrivare a un tetto che quindi limiti la possibilità di avere delle pensioni così alte. Poi guardi, io personalmente sarei per la... ma guardi, 2-3 mila euro al mese è un tetto sufficiente per poter vivere per tutti quanti. Anche per il meno, anche per... Dal punto di vista personale, per risolvere questo problema che c'è ad ogni legislatura dei famosi 4 anni, 6 mesi e un giorno, basta eliminare completamente il vitalizio e equipararlo a quello dei lavoratori dipendenti. Quindi tu avrai la tua pensione a 67 anni e un giorno e ce l'avrai a seconda dei contributi che verserai secondo sistema contributivo. Paniz, come fa?